Pioggia e brusco calo delle temperature. L'ondata di maltempo ha colpito anche la provincia di Ancona, con forti acquazzoni che hanno causato allagamenti e piccoli smottamenti in tutto il territorio, in particolare nei comuni di Iesi, Filottrano, Castelfidardo e Osimo. Secondo gli esperti, la perturbazione proveniente dalla Scandinavia lascerà la zona nella mattinata di sabato, ma resteranno temperature piuttosto autunnali. Weekend dunque tutto sommato clemente per la Vallesina, che potrà quindi riprendersi dopo tre giorni di piogge ininterrotte.